Salve a tutti, sono Eva, Excellent Gusto, sono qua nella splendida cordice di Expo Milano 2015 per presentarvi il tartufo dell'azienda Urbani Tartufi, un'eccellenza dell'Umbria. Excellent Gusto dedica per questa splendida occasione due ricette create in collaborazione con lo chef internazionale Luca Ciano e ambasciatore di numerosi prodotti di eccellenza made in Italy e lo chef Cavaliere Vittorio Storino, campione italiano ed europeo di pizza gourmet. Le due ricette si tratta di una spaghetti alla chitarra creata meravigliosamente con un mix delizioso di porcini e tartufo e di una pizza, pizza mare e boschi, creata appunto dalla Cavaliere Astorino Vittorio, una pizza incredibile dove si sposano perfettamente il tonno sardo carloforte con il tartufo. Beh, cosa dire, siamo contenti di essere qua con questi meravigliosi partner. Excellent Gusto invita tutti a trovare queste ricette in Excellent Gusto Magazine, entrare nel nostro mondo di ricette e divertirsi a ricrearle da soli o in compagnia e ovviamente a condividerle con chi amiamo. Quindi questo è il contributo che Excellent Gusto dà per nutrire il pianeta. Eccoci con lo chef Astorino. Ciao Vittorio. Ciao Eva, ciao a tutti. Vittorio, tu hai una passione ardente per la pizza. Esatto. Qual è la tua filosofia? La mia filosofia è fare una pizza dalla tradizione unita all'innovazione, creando una pizza gourmet che sta piacendo molto, una pizza da riqualificare perché fa parte proprio di un piatto di alta cucina nominabile e ti dirò, questa pizza che ho creato, che è la mare e boschi, è una pizza gourmet che sta piacendo molto anche in campionato, una pizza che oltretutto prende la sua eccellenza, il suo top grazie al tartufo Urbani. un tartufo molto profumato, molto buono e questo qua io quasi quasi me lo mangio prima di metterlo sulla pizza e il profumo già dice tutto lui, quindi non c'è altro da dire. Fantastico.